Salve a tutti, siamo Stefano Perugini, Silvio Chiarelli, Lorenzo Almagno, iscritti al terzo anno del triennio nel conservatorio Lorenzo Prodi di Campobasco, nella classe del maestro Caglio Sant'Angelo e oggi seguiremo per voi un brano per se tassi di percussioni, 3x1, composto da Zikovic. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.